Sono presenti ovunque, tutti i giorni, 24 ore su 24, per aiutare chi soffre. Sono i volontari della Croce Rossa, che anche a Cremona sono presenti da diversi anni e che sono in prima linea sia per il soccorso e il trasporto dei pazienti, ma anche per l'aiuto quotidiano in campo sociale. Una giornata per celebrare l'impegno dei volontari di tutto il mondo, l'impegno che si è svolto in questo ultimo anno in occasione della pandemia. La celebrazione è per ringraziare i volontari che hanno lavorato, non solo nel sanitario, nel sociale, in tutte le branche della nostra associazione. L'ultimo anno legato alla pandemia è stato particolarmente pesante e complicato. Anche a Cremona ci sono state perdite e sofferenza. È stato un anno molto impegnativo, sia dal punto di vista fisico, psichico, psicologico soprattutto, perché tanti si sono contagiati, qualcuno purtroppo l'abbiamo perso e quindi il carico emotivo è stato importante. Ci siamo sostenuti a vicenda, anche se devo dire che purtroppo le ripercussioni cominciamo a sentirle adesso. E proprio per la giornata mondiale istituita all'8 maggio in occasione dell'anniversario della nascita del suo fondatore, la Croce Rossa ha messo in campo numerose iniziative per riconoscere il lavoro degli oltre 150.000 volontari in tutta Italia, tra cui l'iniziativa solidale legata a una raccolta alimentare. Oggi il nostro slogan è diventato gli inarrestabili. Questo perché vogliamo andare avanti a compiere il nostro dovere, il nostro lavoro. Abbiamo riconosciuto nelle nostre origini il seme di quello che abbiamo costruito in tutti questi anni.